Io credo che il suono della ragazza si dissolvi qui, come tutti i miraggi notturni, che a un certo punto si perdono come nella nebbia. Lei ha abbracciato il maestro e assieme guardano il pubblico sterminato che ha assistito al concerto. Così vedono quelli che sono arrivati a terra e gli altri che sono arrivati a terra.